Sono meno di 800 i positivi a Caltanissetta, tra quarantena domiciliare e ricoveri in ospedale. Calano i contagi, calano anche i ricoveri negli ospedali della provincia. Sono 352 i pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, tutti in isolamento domiciliare. 102 sono i pazienti di Gela, 85 di Caltanissetta, 46 se ne contano a San Cataldo, 22 a Mussomeli. E poi ancora 21 a Niscemi, 17 a Sommatino, 9 a Serra di Falco, 7 a Vallelunga, 6 a Delia, 6 a Mazzarino, 6 a Milena, 6 a Riesi, 4 a Santa Caterina, 4 a Campofranco, 4 a Bonpensiere, 4 a Butera, un paziente positivo a Montedoro, stesso un paziente a Resuttano, un paziente a Villalba. Per ciò che riguarda nel dettaglio i numeri dei singoli paesi della provincia, vediamo come si diceva che a Caltanissetta diminuiscono i positivi. E stessa diminuzione anche si registra Gela. Sono 991 i positivi in quarantena domiciliare, 14 invece i ricoverati in malattie infettive. C'è un paese senza nessun positivo nelle ultime 24 ore ed è Acquaviva Platani che non ha nessun cittadino ricoverato negli ospedali e neanche in quarantena domiciliare.